no 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 ah ma ci sono piato maro teresa è caduta no su se stai prendendo il suo pavimento è fritto ma che domande sono? è normale che sono caduta e ti hai fatto male? no ma ci hai fatto bene ma che stai scemo a fare stamattina? uè ma poi quando hai trovato che sei caduta? niente proprio, valore tuo maestra teresa è caduta, sei fatta male piccola teresa fammi vedere cosa ti sei fatta niente di grave, dai un cerottino e passa maro mamma brucia mi raccomando il nostro piccolo segreto fai un giallo rapresi, dai sciocchina andiamo a giocare bambini maro corri tu sono staccare una coscia, aiutate teresa se stai così male andiamo in ospedale no ma sei paziente, sono troppo bella ma poi quando hai ambulanza e quello che arriva se ne è caduta la coscia tiè, oppa, meglio così, mi hai terminato il cerotto e stai me pazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti